Un evento che permetterà agli spettatori abituali di vedere come una città, in questo caso Gubina, può trasformarsi in comunità. È questo lo scopo che ha portato Gianluca De Gennaro ad organizzare un weekend all'insegna dell'arte e della musica, realizzando da giovedì 4 a domenica 7 ottobre 16 spettacoli di artisti di strada in quattro piazze diverse, Uderisi, San Giovanni, Bosone e San Martino, che in caso di maltempo saranno trasferiti al teatro comunale della città. Quest'anno l'iniziativa si terrà a Gubbio per la prima volta, ma già partita nel 2013. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2013 nel comune di Scheggia, poi ci sono state delle evoluzioni, sono state più che altro delle feste private che mantenevano lo stile del coinvolgimento degli artisti di strada, dei seminari di riflessione e poi siamo riusciti di nuovo a proporla invece adesso alla città di Gubbio con un senso ben preciso che è detto dal titolo, cioè una città come comunità. L'obiettivo, appunto, è quello di stare insieme per dedicare a se stessi momenti di forte coinvolgimento. Oltre agli artisti di strada, i spettatori potranno infatti godere di uno spettacolo a sera presso il teatro comunale Luca Ronconi ed i seminari di riflessione ospitati alla sala teatro dell'assenotrofio Mosca, definito da De Gennaro un luogo simbolico, vista la presenza di giovani pensatori ogubini. Gli artisti di strada sono prevalentemente marchigiani ma si sono tutti formati, o meglio, una buona parte si sono formati a Torino, mentre gli artisti della sera, gli artisti del teatro, i cantanti, i musicisti sono tutti eugubini. Ogni spettacolo è aperto da un giovane cantautore o cantautrice di Gubbio, mentre l'unico non eugubino è un migrante al contrario, perché da Milano si è trasferito a Gubbio da otto anni, ha qui prodotto il suo primo album e quindi lui debutterà. Io ho voluto proprio investire su quegli artisti ogubini che ho seguito sempre e di cui ho potuto verificare la grande passione e la grinta unita alla capacità di una profondità artistica veramente da premiare. Notevole per la realizzazione dell'iniziativa anche il sostegno del Comune di Gubbio e del neofilosofo Andrea Zoppis, che durante la conferenza di presentazione ha definito il festival un momento per aprire il proprio cuore. Fondamentale per la società è infatti mettere al centro la relazione e non l'interesse personale, creando un rapporto fondato sul dialogo, in cui l'altro non si esclude ma si coinvolge. Un'iniziativa significativa che, come ha ricordato l'assessore alla cultura Augusto Ancillotti, si affida molto alla capacità del pubblico di capirla e farla propria. De Gennaro, infatti, si definisce in questo caso un imprenditore che ha investito confidando che il messaggio venga recepito. Ed è proprio per evitare che questa resti solo un'edizione zero che si chieda al pubblico, che potrà assistere gratuitamente a tutti gli eventi, di munirsi comunque di un pass dal costo di 18 euro, che permetterà di ricoprire i costi dell'evento. Ulteriori informazioni nel Deplian che si può trovare presso lo IAT della città e nella pagina Facebook riportante il nome dell'iniziativa.